Due donne straordinarie, due donne diverse. Una gira per il mondo portando il suo messaggio di pace e progresso. L'altra è una giornalista alla ricerca di uno scoop. Ma entrambe nascondono un segreto. Solo un uomo potrà svelare l'arcano. Ma per farlo dovrà affrontare il suo peggior nemico. Il tempo. Conception, la genesi della perfezione. Il nuovo Hyperbook di Eugene Peach. Lo trovate su Amazon in formato ebook e cartaceo. Siete pronti a tuffarvi nell'avventura? Hyperbooks. A new way to read.